Buongiorno a tutti e benvenuti a questo primo tutorial in cui spiegheremo come usare al meglio la nuova applicazione Immuni, messa gratuitamente a disposizione dal governo per tenere sotto controllo la possibile diffusione del coronavirus. Grazie a questa applicazione si potranno monitorare tutti i nostri spostamenti e individuare le persone con cui veniamo in contatto. Ben inteso e lo sanno anche i bambini grazie al nostro cellulare che portiamo sempre appresso il governo può già controllarci con la geolocalizzazione ma anche comandando a distanza microfono e telecamera del nostro apparecchio. Con questa nuova applicazione noi daremo il consenso affinché questo venga fatto in maniera legale. Bene allora passiamo subito alla spiegazione pratica e partiamo dal momento in cui scarichiamo la nostra applicazione come spiego nella successiva fase 1.